Ultimo saluto allo storico campetto di basket a Muraglia che verrà distrutto per lasciare il posto al calcio. I residenti della zona sono amareggiati della decisione di eliminare un campo sportivo che da anni è stato utilizzato da gran parte di loro. Il quartiere chiede che venga restituito un luogo nel quale coltivare la passione per la pallacanestro. Il campetto per i muragliesi è stato un posto dove sono cresciute diverse generazioni, ci racconta Federico Benedetti a nome di un gruppo di amici fra i 40 e i 50 anni e che lavora nell'area marketing della VL. Oggi il campetto versa in pessime condizioni tanto che le retine dei canestri sono state nel tempo curate dai residenti. I lavori per trasformarlo in un campo da calcetto sono ormai alle porte. Questo è uno dei cosiddetti campi storici di Pesaro nel senso che è qui da credo anche più di 30 anni, almeno sicuramente io da quando sono bambino veniamo qui a giocarci tutti noi amanti del basket di zona, il cosiddetto campetto sotto casa dove si viene a piedi o in bicicletta senza dover andare tanto distante. Giochiamo qui da una vita e abbiamo saputo che giustamente per poter dare spazio alla crescente richiesta che ha il calcio che questo campetto verrà distrutto in qualche maniera, ci verrà fatto un campo di calcetto che è giusto perché come vedete è in uno stato di abbandono per cui noi amanti e ci giochiamo comunque però è in uno stato improponibile, abbiamo portato le retine da casa e ci viene questa struttura che va benissimo e ci dispiace che non abbiamo più un'alternativa chiudendo questo posto dove poter andare a fare due tiri con i nostri figli. Il capetto è un ruogo sociale che serve anche per togliere fondamentalmente i bambini da dietro uno schermo, ci piacerebbe che crescessero i nostri figli un po' anche come ci siamo cresciuti noi qui per interi pomeriggi e questo diciamo ci piacerebbe poter ripeto qui a Muraglia che comunque il basket è tanto amato in città e c'è tanta gente che lo pratica e poter avere questa soluzione. Ci sono tanti posti a Scalamita, a Via Petrarca o anche addirittura al Parco Scarpellini dove c'era già un altro campetto che adesso c'è la palestra all'aperto che non c'è più quindi anche questo campetto, se c'è volontà ai posti ce ne sono veramente tanti ovviamente un campetto che non viene manutenzionato poi viene abbandonato perché senza retine con il cemento che si alza dopo la gente non è invogliata perché ha anche paura di farsi male quindi un campetto per poter fare due tiri con i nostri figli tra amici che venga in qualche maniera mantenuto. Grazie a tutti.